Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E' da tanto ragazzi che non condivido con voi le informazioni contenute nei libri che ad oggi possiamo definire a tutti gli effetti profetici di David Icke. In molti me l'hanno fatto notare e oggi sono qui perché voglio leggervi alcune cose contenute in questo libro di David Icke che si chiama Ricordati chi sei, dove vivi e da dove provieni. Il titolo del libro se volete comunque acquistarlo lo troverete nel primo commento in basso sotto al video. Quindi so che vedrete tutto al contrario ma nulla di irreparabile. Vi scriverò il titolo giù nei commenti. So che è un periodo critico dal punto di vista economico per molti e so che tante persone non si possono nemmeno permettere la spesa ragazzi. Quindi comprare un libro ad oggi è diventata un'impresa. Sembra esilarante ma non lo è. Anzi è purtroppo una condizione gravissima in cui versano tantissime persone. Proprio per questo ma anche perché molti me l'hanno chiesto e richiesto oggi sono qui per condividere con voi altre informazioni che David Icke ha racchiuso in questo libro. Poi comunque ne andremo ad analizzare anche altri ragazzi, io ce li ho tutti. Quindi faremo chiarezza. Oggi per esempio voglio affrontare una tematica secondo me importante che andrà a costituire forse il perfetto spunto di riflessione. Vedete in passato io ho parlato di molti film andandoli a collegare a quella che è la realtà in cui noi ci ritroviamo a vivere. Vi ho parlato di Equilibrium, questi film che hanno una visione futuristica, no? Questi film che è come se cercassero di preparare l'umanità intera a quello che sarà il futuro, no? Anche se non lo chiamerei nemmeno più tanto futuro. È ormai presente questa condizione, questo progresso tecnologico, la schiavizzazione umana attraverso la tecnologia e tanto tanto altro. Quindi questi film si occupano appunto di lanciare un messaggio all'umanità, un messaggio negativo, un messaggio di schiavizzazione in dottrimento ulteriore. Vi ho parlato di Equilibrium, Angry Games, Upgrade, Equals e tanto tanto altro. Anche del Signore degli Anelli e della visione saturniana. Oggi volevo invece parlarvi e leggervi alcune cose riguardo al film Avatar. Ci avete mai pensato, ragazzi? Avete mai visto il film Avatar? Bene, in Avatar vengono in realtà poste sotto la visione generale molti aspetti, molti aspetti che riguardano non soltanto la distorsione in cui noi ci ritroviamo a vivere, ma anche quella che era la condizione aborigine. In Avatar abbiamo il Popolo Blu. Il Popolo Blu che vive in avi, no? Gli uni nei confronti degli altri c'è amore, pace, armonia, ma non soltanto tra gli individui, ma anche tra gli individui e la stessa natura. Questa armonia ad un certo punto, quindi questo Popolo Blu e l'armonia che li caratterizza, li potremmo paragonare agli individui che hanno caratterizzato la vera epoca d'oro, no? Quindi agli individui che vivevano in completa armonia gli uni con gli altri, vivevano in perfetta armonia con la natura, col mondo animale, eccetera, eccetera. Quindi una popolazione che aborigine non conosceva l'odio, poi è stata distorta, no? E quindi il Popolo Blu lo potremmo quasi paragonare a questa umanità, questa vera popolazione della vera epoca d'oro, scusate. Bene, questa armonia ad un certo punto è stata totalmente, è stata comunque totalmente presa di mira, no? Da questi, nel film, ecco, il potere, la negatività sono rappresentati da questi militari che si vanno ad infiltrare in questo mondo idiliaco, in questo mondo armonioso e lo vanno a distruggere, distruggono il loro ambiente, ammazzano anche molti componenti di questo Popolo Blu. Nella nostra realtà questa distorsione è, a tutti gli effetti, da ricollegare al controllo rettiliano, al controllo di questi esseri non umani, perché non si parla di un controllo umano, ragazzi, si parla di un controllo che non è umano sull'umanità. Un controllo, un'energia, che noi molto spesso non vediamo ed è proprio per questo motivo che qualche video fa vi parlavo del loro intento. Qual è il loro fine? Andare a trasformare anche la stessa atmosfera terrestre per cercare di adattarla ulteriormente alle loro esigenze. Quindi è molto, molto grave quello che sta avvenendo e come i topini sono le cavie da laboratorio per gli umani che vanno a testare su questi poveri animali lo schifo di Big Pharma e delle industrie generali, noi siamo le cavie da laboratorio, ma di un laboratorio molto più grande, molto più espasso e molto più ampio di questi esseri non umani che da molti secoli ormai manipolano l'umanità di generazione in generazione attraverso gli ibridi che sono stanziati in diverse posizioni di potere. Quindi loro, coloro che realmente detengono il potere che noi non riusciamo a vedere in questa banda di frequenza, manipolano questi ibridi, per esempio i capi del governo, eccetera, eccetera, affinché riescano a perpetuare il loro volere. E di questo io ve ne avevo già parlato. Oggi volevo leggervi alcune informazioni contenute in questo libro che secondo me andranno a costituire il perfetto spunto di riflessione e cercheranno anche di farvi riflettere su quello che noi siamo per loro. Noi siamo cibo per loro. Gli umani, per esempio, cos'è che mangiano? Le cose che andiamo a comprare al supermercato, eccetera, eccetera. Quindi cibo apparentemente solido, anche se in realtà la solidità e la fisicità non esiste. Sono delle forme olografiche. Delle forme olografiche. E la distorsione, ragazzi, sugli esseri umani avviene anche attraverso il cibo. Cibo che viene prodotto da sementi OGM, che hanno il compito di distorcere il livello energetico tra corpo e mente. Quindi facendoci ingerire sostanze che non andranno a creare armonia nel nostro organismo, ma lo andranno a distorcere. Molti cibi che ad oggi vengono ingeriti dalle persone e dal nostro organismo, ragazzi, non vengono nemmeno riconosciuti. Per cui poi si hanno i cosiddetti disturbi alimentari, che prima non esistevano, ragazzi, tutti questi disturbi alimentari, allergie alimentari. Non esistevano. Parlate, per esempio, con molte persone grandi. Vi diranno tutti la stessa cosa. Ma dov'è che prima c'erano tutti questi problemi con il cibo? E adesso esistono e stanno cominciando a diffondersi sempre più proprio perché è avvenuta anche una distorsione sul cibo stesso. Quindi come noi ingeriamo, per dirvi, la pasta e il pane, loro, per loro, il cibo è la nostra energia, la nostra energia negativa. Ecco perché per loro è molto importante tenere e mantenere il mondo in questo continuo stato di guerre, rivolte, eccetera, eccetera. Perché senza questo loro non potrebbero mangiare, non potrebbero cibarsi. Ecco perché vogliono poi comunque il loro intento è anche quello di andare ad eliminare i rivoltosi, i dissidenti, che sono la mela marcia del loro sistema, perché non hanno nessuna intenzione di obbedire. Non hanno nessuna intenzione di inginocchiarsi al loro volere, soprattutto non hanno nessuna intenzione di lavorare per i loro piani. Ma andiamo a leggere, partiamo innanzitutto dalle parole di Carlos Castaneda, che nei suoi libri ha racchiuso quelle che sono state le rivelazioni di Don Juan Matus. Don Juan Matus, uno sciamano che potremmo quasi paragonare a Credo Mutfa. Lui si è espresso in merito a questi predatori, a coloro che ab origine sono venuti qui e hanno distorto completamente la realtà in cui ci ritroviamo a vivere. E sentite qui le parole di Don Juan Matus. Esiste un predatore che è emerso dalle profondità del cosmo e ha assunto il comando delle nostre vite. Gli esseri umani sono suoi prigionieri. Il predatore è il nostro signore e padrone. Ci ha resi docili, inermi. Se vogliamo protestare, egli reprime le nostre proteste. Se vogliamo agire indipendentemente, esige che non lo facciamo. Siamo davvero prigionieri. Essi si sono impadroniti di noi perché noi per loro siamo cibo e ci strizzano senza pietà poiché da noi tragono il loro sostentamento. Proprio come noi alleviamo i polli, i predatori ci allevano in batterie umane e così hanno sempre il loro cibo a disposizione. Rifletti un attimo e dimmi come spiegheresti le contraddizioni tra l'intelligenza dell'uomo ideatore e la stupidità dei suoi sistemi di credenze o la stupidità del suo comportamento contraddittorio. Gli stregoni credono che siano stati i predatori a trasmetterci i nostri attuali sistemi di credenze, la nostra idea di ciò che è bene e male, le nostre abitudini sociali. Sono loro che alimentano i nostri sogni di successo o la paura di fallire. Ci hanno trasmesso l'abidità, la cupidigia. Sono i predatori a renderci compiacenti, abitudinari e maniaci del nostro ego. Per farsi ubbidire e tenerci buoni, i predatori si sono imbarcati in una stupenda manovra. Stupenda, naturalmente dal punto di vista di uno stratega. Una manovra orrenda, invece, dal punto di vista di coloro che la subiscono. E quindi noi, ragazzi. Essi ci hanno ceduto la loro mente. La mente dei predatori è barocca, contraddittoria e cupa, pervasa dal timore di essere scoperta da un momento all'altro. Ed effettivamente, ragazzi, loro ci hanno donato la loro mente. Il cosiddetto complesso R, l'emisfero sinistro che associamo, per esempio, alle abitudini legate alla ritualità. Molte persone, per esempio, nel quotidiano assumono atteggiamenti rituali. Se non fanno una cosa per tutti di volta, allora pensano che si possa battere qualche cosa negativa sulla loro vita. Insomma, ci sono tante persone che purtroppo vivono vittime di questa ritualità. Quindi loro è come se ci avessero donato una parte della loro mente. Ed è per questo che vi dico che bisogna liberarsi innanzitutto qui. E' qui che ci dobbiamo liberare. Perché è qui che il loro dominio è partito. Loro hanno pensato e si sono detti. Come facciamo a manipolare tutti questi individui così armoniosi? Manipoliamoli dal punto di vista mentale. Creiamo nelle loro menti delle prigioni in cui imprigionare il loro essere. Loro vogliono però completamente distaccarci da tutto quello che siamo, imprigionandoci nella visione umana. Quindi facendo crederci che noi siamo soltanto un pezzo di carne che vive, nasce, vive e muore soltanto per lavorare, andare a scuola e fare queste cose qui. Invece noi siamo tutt'altro, siamo infinito, siamo esseri immortali, siamo esseri spirituali immortali. Ed è proprio da questa concezione che loro ci vogliono completamente scollegare. Andiamo avanti. Ike ci dice Il cibo, di cui parla Don Juan nelle sue appunto dichiarazioni, è l'energia emozionale umana a bassa vibrazione che risuona nella banda di frequenza di stati quali la paura, l'odio, lo stress, la depressione, la preoccupazione e condizioni simili. Vi siete mai chiesti per quale motivo la nostra società ne produce così tanta di quell'energia 24 ore al giorno, 7 giorni su 7? O perché coloro che detengono il potere la generano in continuazione in tutto il mondo tramite le loro guerre, il terrorismo e le crisi finanziarie che stimolano paure, morte, orrore, infelicità e indigenza? Oppure come mai i media convenzionali controllati appunto dagli illuminati e i videogame sono colmi di immagini che innescano quelle stesse emozioni? Lo scopo è manipolare l'umanità per farle entrare in stati mentali ed emotivi che producano l'energia a bassa vibrazione di cui si nutrono e da cui attingono potere i vampiri energetici rettiliani. Essi sanno che possono manipolarci e indurci a entrare in questi stati emozionali. Noi generiamo fondamentalmente l'energia di cui loro hanno bisogno. Ecco perché c'è così tanto interesse a far sì che la gente provi paura, stress, collera e risentimento. Queste emozioni creano schemi cardiaci incoerenti che portano disarmonia nell'intero processo di decodificazione e provocano il caos emozionale, mentale e fisico. Tutto ciò produce energia a bassa vibrazione. Quando si trovano in uno stato emotivo disequilibrato le persone non pensano con chiarezza. Basterebbe trovarsi in un folto gruppo di gente come ad esempio la folla allo stadio per comprendere la potenza dell'energia elettromagnetica prodotta da un'emozione collettiva quella che ad esempio ci fa dire mi si sono rizzati quelli sul collo. Bene, questo esempio della folla allo stadio è un esempio davvero lampante e molto chiaro dell'impatto energetico, del forte impatto energetico che possono produrre molti individui. Per esempio, non so se mi è mai capitato di andare allo stadio, io ci sono stata ed effettivamente il calore dei tifosi che vanno ad incoraggiare la loro squadra fa rizzare i peli appunto, no? Cioè vi fa un attimo provare dei brividi lungo la schiena perché sentite proprio questa è come se fosse proprio una frustata di energia in quel caso positiva, no? E quindi voi la assaporate quell'energia, la percepite. Bene, immaginate l'impatto energetico su questi individui immaginate l'impatto energetico negativo che noi individui produciamo su di loro. Loro si cibano di questo noi siamo la perfetta fonte di sostentamento per loro perché ogni giorno attraverso anche conflitti e attraverso anche guerre che noi ci facciamo a vicenda non facciamo altro che alimentarli ecco perché io vi dico cercate di agire con armonia con amore per la pace perché facendovi guerra a vicenda non rispettando viaggendo con odio eccetera eccetera non fate altro che perpetuare il loro volere e voi volete essere schiavi o ribelli? Volete essere schiavi parte integrante del loro gioco? Io spero di no ragazzi spero vivamente di no. I rettiliani stessi si trovano in uno stato vibrazionale talmente basso che possono assorbire soltanto ciò con cui sono sincronizzati le guerre i disastri come lo tsunami che si abbatté sul Giappone le catastrofiche perdite radioattive come anche attacchi terroristici crisi economiche la rabbia e l'ostilità della gente sono tutte cose che producono incredibili quantità di energia emotiva di cui i rettiliani si nutrono e che poi ci restituiscono in una sorta di ciclo continuo. Questa è una delle ragioni principali per cui il sistema di controllo rettiliano in forma umana le stirpi degli illuminati si assicura che eventi del genere si verifichino costantemente ci sono entità rettiliane che vivono nelle viscere della terra e operano nell'ambito della luce visibile come fanno i grigi ed esistono molte basi sotterrani in cui i rettiliani interagiscono con scienziati tra virgolette umani per instaurare la schiavitù controllare la tecnologia sulla superficie e portare avanti i propri esperimenti genetici la vera avanguardia scientifica tenuta segreta non si avvicina neppure a quello che vediamo nel panorama pubblico perché c'è ragazzi un progresso tecnologico di cui l'umanità non è a conoscenza che veramente sarebbe capace potrebbe produrre cose inimmaginabili qui si parla di espressione tecnologica che è ben lontana dalla nostra concezione della tecnologia racchiusa nello smartphone si parla di una tecnologia a livelli proprio estremi a livelli estremi esistono anche basi sotterranei ci dice Ike su altre frequenze dimensionali della terra poiché il centro della loro struttura di potere opera da frequenze oltre la luce visibile in altre parole noi non possiamo vederli essi possono entrare e uscire dalla luce visibile utilizzando mezzi energetici e tecnologici ma generalmente operano al di fuori della vista umana ed è proprio per questo che ragazzi stanno cercando di trasformare la stessa atmosfera terrestre per cercare di adattarla alle loro esigenze sono sicuro che se avessimo accesso a una gamma di frequenza visiva ben più ampia potremmo vederli ma dal momento in cui è avvenuto l'intervento genetico non c'è stato più possibile perché attraverso questo intervento genetico loro hanno limitato l'essere umano lo hanno limitato possiamo vederli solo quando entrano nella nostra gamma di frequenza cosa che di tanto in tanto accade questo è un aspetto della mutazione di forma un fenomeno che si verifica quando un campo energetico rettiliano subentra a uno umano e l'osservatore crede di assistere a una trasformazione fisica gli esseri umani si cibano di alimenti fisici o almeno questo è cibo questo è ciò che credono ma in realtà si tratta di cibo olografico ovvero informazioni vibrazionali decodificate il cibo buono è un'informazione vibrazionale che si sincronizza con il campo energetico del corpo mentre il cibo cattivo lo distorce proprio per questa ragione le multinazionali degli illuminati come vi dicevo prima riempono i supermercati di cibo spazzatura che va a ledere il nostro organismo distorcendo allo stesso tempo anche l'energia l'energia e questa armonia energetica che dovrebbe esistere tra corpo e mente quindi si parla delle cosiddette buone vibrazioni e cattive vibrazioni i rettiliani che vivono oltre la luce visibile si cibano proprio di questi campi energetici che vengono prodotti dall'intera umanità ma si tratta di energia negativa perché comunque versiamo in una condizione di totale negatività l'incubo peggiore dei rettiliani è un'umanità che vive in uno stato di amore e armonia ragazzi questo è il loro incubo peggiore questo spiega molte cose lo sciamano Don Juan Matus avrebbe anche rivelato a Carlos Castaneda queste altre parole so che anche se non avete mai sofferto la fame avvertito una sorta di ansia nei confronti del cibo nient'altro che l'ansia del predatore il quale avverte che da un momento all'altro verrà scoperto il cibo li sarà negato attraverso la mente che dopo tutto è la loro mente i predatori infondono nella vita degli esseri umani ciò che a loro conviene e in questo modo si assicurano un grado di sicurezza da utilizzare come tampone nei confronti della loro paura gli stregoni dell'antico messico pensavano che l'uomo a un certo punto dovesse essere un uomo completo dotato di una meravigliosa dimensione spirituale e con una consapevolezza che oggi sembra appartenere a leggende mitologiche e poi tutto sembra sparire ed ecco che ora abbiamo un uomo sedato quest'ultimo è molto intelligente e organizzato segue un sistema metodico per renderci no? scusate abbiamo un uomo sedato quello che voglio dire è che contro di noi non abbiamo un semplice predatore quest'ultimo è molto intelligente e organizzato segue un sistema metodico per renderci inutili l'uomo che era destinato a diventare un essere magico non è più un magico è un mediocre pezzo di carne l'uomo non ha più sogni propri se non quelli di un animale che è stato innalzato a diventare un pezzo di carne sono i banali convenzionali idioti queste parole descrivono la differenza tra gli esseri umani della vera epoca d'oro quando la nostra consapevolezza era incredibilmente espansa e quelli esistiti dopo l'avvento dei rettiliani i quali modificarono il nostro modo di ricevere e trasmettere informazioni il mondo del popolo blu i navi raccontato in avatar ricorda molto come era la terra durante la vera epoca d'oro e nel film di James Cameron ci sono anche altri due aspetti che rappresentano quanto è accaduto all'umanità innanzitutto abbiamo i tecnologi dell'emisfero sinistro e i sicari dell'esercito individui senza empatia rispetto o una minima comprensione per il mondo idilliaco del popolo blu in cui tutto era uno la cosiddetta legge dell'uno che effettivamente caratterizzava la popolazione aborigine quindi l'armonia con tutto ciò che esisteva invece tra il popolo gli animali gli alberi e il mondo naturale nel suo complesso c'erano comunicazione e rispetto tutto ciò che interessava agli individui del cervello sinistro era che in quel mondo c'erano risorse di grande valore da depredare e portare sulla terra i rettiliani hanno la stessa mentalità dei militari del film solo molto più estrema da quando sono giunti sulla terra hanno saccheggiato le sue risorse non da ultimo loro i rettiliani sono molto progrediti a livello intellettuale e hanno grande esperienze in campi quali la tecnologia e la genetica ma spiritualmente sono morti e hanno guidato l'umanità nella stessa direzione questo rende i soldati del film avatar il simbolo perfetto della mentalità rettiliana un altro punto che vale la pena citare è proprio la parola avatar i creatori del film dicono un avatar è una mente umana trasferita nel corpo di un ibrido umano geneticamente programmato nella vicenda è ciò che veniva fatto affinché i militari umani potessero appunto infiltrarsi nella società del popolo blu senza essere visti dato che assomigliavano agli abitanti stessi del luogo avatar è uscito nelle sale cinematografiche nel 2009 ma devo dire che David Icke ormai si sta occupando di denunciare queste tematiche da lontano pensate un po' e questa è una tematica quella che viene presentata nel film molto importante quindi la società invasa da una forza di controllo non umana un predatore che si cela dietro la forma umana e qui poi comunque nel prossimo video parleremo anche della mutazione di forma e di quello che avviene a livello olografico di quello che noi percepiamo e andremo anche ad affrontare un'esperienza molto strana che è diciamo avvenuta a questo personaggio Stuart Swerlow quindi andremo ad analizzare tutto questo nel prossimo video voi intanto fatemi sapere cosa ne pensate avete mai pensato o comunque visto il film Avatar in quest'ottica qui vi è mai capitato di appunto soffermarvi su queste no come li potremmo chiamare su questi riferimenti a quella che è la società la distorsione che noi stessi abbiamo vissuto e comunque distorsione che noi stessi purtroppo ad oggi ci ritroviamo a distorsione in cui noi stessi ad oggi ci ritroviamo a vivere ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi del film Avatar fatemi sapere se l'avete mai visto se non l'avete visto ragazzi ve lo consiglio e fatemi anche sapere quello che pensate delle varie parole di Don Juan Matus che poi sono state appunto raccolte da Carlos Castaneda e un po' di tutto quello che vi ho letto appunto dal libro ricordati chi sei dove vivi e da dove provieni di David Icke io aspetto di leggere con impazienza i vostri commenti vi do appuntamento alla prossima e vi auguro un buon proseguimento di giornata